Zenzero, zenzero, spezia piccante, fammi dimagrire in un istante. Pof! Zenzero, ma perché non funzioni? Zenzero, ma perché non funzioni? Sono buonissime, ne sto bevendo una con zenzero e limone proprio adesso. Mi ha chiesto se lo zenzero è davvero utile per il dimagrimento. Basta fare una ricerca su Google e si trova di tutto. Dimagrisci con lo zenzero, zenzero per dimagrire, tisana lo zenzero per dimagrire e depurare, dimagrire con lo zenzero, zenzero e limone una combinazione perfetta per dimagrire, 5 modi di perdere peso con lo zenzero, zenzero per dimagrire e sciogliere i grassi, cibi dimagranti, lo zenzero brucia i grassi e dà gusto alla dieta, tisane fatte in casa per dimagrire, la ricetta dell'infuso allo zenzero e bla bla bla. Per non parlare delle riviste dove si decantano le proprietà dimagranti dello zenzero, quasi fosse la nuova formula magica per perdere tutti i chili di troppo e soprattutto il grasso della pancia. Sapete perché rido? Perché se fosse vero non avrei bisogno di fare il mio lavoro. No, davvero, non scherzo. In quasi 30 anni di esperienza ne ho sentite di tutti i colori. Di solito succede così. Una persona, donna o anche uomo, giovane o meno giovane, mi contatta per una consulenza sul dimagrimento naturale senza dieta o per rimettersi in forma con la naturopatia e l'alimentazione. Quando ci incontriamo mi dice disperata di averle provate tutte, allora chiedo di raccontarmi qualcosa e molto spesso sono consigli o diete trovate online o sulle riviste. Niente di male, se non che per amore di marketing, per fare scoop, per trovare argomenti nuovi visto che ormai tutto è già tritto e ritrito, si ingigantiscono i benefici di certi alimenti come nel caso del nostro amico zenzero che fa benissimo intendiamoci e sicuramente aiuta a dimagrire nel senso che favorisce la digestione col suo sapore piccante che stimola il metabolismo e provoca un lieve innalzamento della temperatura interna e ha principi attivi che combattono la fermentazione intestinale quindi è utile contro il gonfiore della pancia per cui aiuta ma non di più per dimagrire con lo zenzero bisognerebbe mangiarne qualche chilo al giorno addirittura se no non serve altro che tisana o spolveratina sulla pasta o nei biscotti io ogni volta che leggo o sento queste cose un po' rido e un po' mi arrabbio come vedete in questo video sulla pancia gonfia un altro argomento su cui se ne dicono di tutti i colori rido perché sono delle assurdità ridicole e mi arrabbio perché tanta gente come Nicoletta crede in buona fede a queste trovate e prova a seguirle convinto che otterrà dei risultati se poi i risultati non arrivano si dispera pensando che 1. le cure naturali non funzionino e non è così 2. peggio ancora che il suo problema non abbia soluzione quindi tanto vale rinunciare e mangiare di tutto e di più e questo mi fa molto arrabbiare perché in tanti anni di esperienza non ho mai detto non si può fare non si può raggiungere questo risultato ma sempre vediamo come puoi risolvere la tua situazione il nostro corpo è incredibile riesce a fare cose meravigliose anche dimagrire e tanto se lo si ascolta e lo si guida nel modo giusto di certo non bevendo tisane o con una pillolina magica di zenzero mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e come sempre raccontatemi le vostre esperienze nei commenti qui sotto e aiutate anche i vostri amici a sfatare questi falsi miti sul dimagrimento condividete questo video con loro e sui vostri social e mi raccomando se volete dimagrire in modo naturale guardate tutti questi video e andate sul mio sito al link scritto nell'info box qui sotto e iscrivetevi al canale naturalmente ciao